In un giorno tanto grave, come sempre lo sono i giorni infausti, nei quali la caducità delle nostre esistenze ci viene bruscamente ricordata dalla perdita di una persona cara. Ti ho visto morire tante di quelle volte, che ora non ci credo più, ancora sei qui in mezzo a noi, sotto forma di silenzio, di lacrime e di cropping goal. Io voglio fare l'attrice, come tua madre. Mia madre era finzione, stereotipo, forma vuota. Mia madre è morta, Nina, andiamo oltre. La vita non può essere rappresentata né così com'è, né come dovrebbe essere, al massimo come ci appare nei sogni. Io non ti capisco posti. Tanto ho parlato di forme nuove, sono scivolato io stesso nella routine e ora il pubblico mi ama. Che mediocrità.